Il telefono di padre Giovanni Serrotti squilla di prima mattina, ormai la sua disobbedienza civile a quanto stabilito dal suo ordine religioso ha fatto il giro dei media e probabilmente non si fermerà. Padre Giovanni, non vogliamo entrare nelle sue telefonate private ma abbiamo sentito da qui non mi muovo. Certo, per quanto sta in me, questa è la mia presa di posizione, cosciente, valutata, doverosa. Padre Giovanni e il fratello Giuseppe, frati domenicani di 86 e 90 anni, hanno vissuto e operato al santuario di Santa Maria del Sasso a Bibbiena per tanti anni e qui sono anche nati. La loro condizione avrebbe spinto l'ordine dei predicatori ad assegnare i due fratelli alla casa San Domenico a Fiesole per tutelare la loro salute. Un trasferimento che si dovrà concretizzare entro il 15 gennaio a cui si sono opposti anche i cittadini e il sindaco di Bibbiena. Ma perché non ci sono motivi per cui devo andare da un'altra parte? Per motivi di salute, perché questo è il punto, no? I motivi di salute non sono del tutto infondati. Io ho una certa età, è vero, però per tutto il resto mi muovo normalmente, ho piena facoltà di conoscere e di volere e andare in una struttura dove si è fermi e immobilizzati la mattina, la sera e la notte, appena custoditi. Da questo punto di vista, senz'altro ci credo dal punto di vista medico, boh, però non sono a quel punto lì, tutto qui. In piena coscienza io di fronte all'ordine di andare in una struttura dove si va per morire, perché questa è la realtà della infermeria di Fiesole, io dico no, non siamo a quel punto. Mentre per padre Giuseppe la strada sembra ormai segnata è il suo carattere, quello di obbedire, ci racconta il fratello, padre Giovanni non molla. Trocul ac cadaver, no? L'obbedienza dell'ordine di Giottoviti si obbedisce come un cadavere. Nell'ordine di Giottoviti c'è l'altro detto, a ragione veduta. Prima di obbedire c'è la coscienza che ti dice se l'obbedienza è dovuta, è giusta o è un sopruso. Ci sono dei soprusi, no? L'obbedienza è una grande virtù, ma quando deve funzionare. Per noi è un'obbedienza ragionata e se pensi che non sia dovuta non obbedisci.